Ciao ragazzi, una nuova super sfida per divertirvi e allenarvi tutti quanti insieme. Fate queste sfide, se poi non vi è piaciuto l'esito andate a guardare i miei video precedenti, allenatevi 7, 8, 9, 10 giorni per poi riproporre una sfida con gli stessi amici e vedere se siete migliorati oppure no. Oggi vi mostro una sfida dove c'è una guida della palla, un taglio per cambiare direzione, vado a fare uno slalom con i controlli orientati, guida della palla, cambio di direzione e gol nella porticina. Io lo faccio sempre con tre palloni diversi perché voglio migliorare la mia capacità di guidare tre palloni di differente forma e di differente peso. Se vi è piaciuto il video, una volta che avete finito, lasciatemi un like, guardate. Grazie. Grazie. Ragazzi, vi assicuro che non è facile passare a guidare palloni di differenze ampiezza e allenatevi a tutti.